Ehi, partiamo lì, ma tu Non c'è tua dolcino d'amor Della bella interpanto e riposo Non c'è tua dolcino d'amor Non più vrai questi bei panacchini Quel cappello leggero galante Quella chioma, quell'aria brillante Quel vermiglio d'onesco color Quel vermiglio d'onesco color Non più vrai quei panacchini Quella cappello Quella chioma, quell'aria brillante Non più vrai Non più vrai, non più vrai è il giorno del 3 ora la sua caccia è pieno la caccia il ritorno è pieno è pieno è pieno è pieno il ritorno è pieno è pieno è il ritorno il ritorno lo che è il ritorno il ritorno all'interno è pieno è pieno il ritorno dell'interno è pieno a 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 indonesia 2 3 4 di samsung pantas mister mickey oh kemana dia oh ke iwatu operasional ini om tidak dingin stabil stabil oh stabil ya ini sudah membeku ini siapa pakai baju batik saja jago wah ini mobil pos halo selamat pagi ha 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 masnya udah pergi aduh weh makan pizza ini ini makan siang hari ini tunggu mati bu eh makan siang itu pizza apa mau makan pizza banyak banyak nambah lagi nambah lagi tuh mungkin terciduk udah empat terus padahal sudah kenyang itu ini tembak om abu ini gara Ma è un'altro Non ho il Hamburgo Non ho il Nors Non ho il Nors Quanto tempo è? No, non lo so Non ho il Nors 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 Perciò che Ora il Nors Il Nors Il Nors Ora ora Sì, svolta via via il hotel e poi via via. Dunque di gioco! Adoro il mondo, non so non so mai! Perciò il Ramadan? Non so, non so. La piattazione è una piattazione di ariana. Non so, non so. Non so, non so. Non so, non so. Sì, è un... wow Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.